Via, partiti! Forza amichi! La Locò è stata la più reattiva, seconda la Moglioli che adesso non vuole fare come nella semifinale prende subito la seconda posizione, in testa c'è la Moen Locò va subito l'attacco, Michela vuole prendere il largo in prima, qui dice Moen Locò occhio Michela che sta arrivando la Pereira da dietro, ha cercato il sorpasso però non c'è riuscita seconda posizione per Michela che passa in testa, sorpassone all'esterno su una curva a sinistra per Michela Moglioli che adesso è nella prima posizione seguita da Moen Locò, poi Pereira e Sousa e infine la Banks in quarta e ultima posizione abbiamo superato la metà della gara, curvone verso sinistra, allarga Moen Locò Michela Moglioli sta prendendo il largo, Michela Moglioli sta prendendo il largo è in fuga per la vittoria Michela Moglioli, forza Michela che arriva la seconda vittoria di fila sì, è la vittoria, e ancora Michela Moglioli, seconda vittoria consecutiva in Coppa del Mondo dopo quella di Montafon, esagerata Michela, fortissima adesso sono le altre che devono preoccuparsi di lei è veramente fortissima la nostra Michela Moglioli è veramente fortissima la nostra città di lei Grazie.